Allora, la posizione di questa sera parte da un Yoseki, come al solito, così almeno iniziamo a conoscere neanche qualcuno. Nero si appoggia, bianco sul lato. Nero, nero qua, e qui, bianco invece che giocare questa, che è una possibilità per andare sul lato, decide di dare attagno. Allora, collegare qui non va bene, questa è una forma pessima, perché se fossimo così già non si capisce, perché abbiamo tre pietre in fila e un'attaccata all'altra, di sicuro salteremo in qualche modo. Giocare qui proprio non ci si pensa. Per cui nero non collega. Quello che fa nero è giocare qua. Bianco allora cattura. Nero data arriva qua, e poi vedremo perché. Comunque ricordate la serenza delle mosse di nero, che vanno tutte nella stessa direzione. bianco collega, nero viene qui, bianco gioca qua, nero ha due opzioni, collegare o non collegare. E se non collega, quindi gioca o qui o qui, di fatto si lascia tagliare in due pezzi abbastanza grossi. Per cui di qui è facile di nero collegare. Quando bianco invece gioca questa, cosa potrebbe fare nero? E questo è il tema. Allora, di nuovo, se c'è la possibilità di collegare o di non collegare. Supponiamo che ne ero colleghi. Qual è il vostro giudizio su questa forma? Non va bene perché è un blocco indietro nero, se non hanno ancora occhi, sono cosantissime e non stanno facendo molto. Bianco, se fatto, subito un po' perché ho catturato questa o l'ho qui, comunque gli occhi ce li ha di sicuro. E queste sono in peso per il nero. Mi sembra che il nero dovrà cercare di farle vivere perché non può lasciarle tutte. ed è un disastro. Invece, la mossa giusta in questi casi è non connettere. In questo caso in particolare, giocare qua. Se adesso bianco gordamente tagliasse, il nero può fargliere uno squizzo, taglia, sia che bianco catturi, sia che bianco scenda, il nero è con una mossa, se cattura, se cattura, resta comunque. bianco, con un po' di tattiche, può un po' di tattiche. Bianco si mette. Sì. E poi con blocco e nero, se cattura, un po' di carriere, Forse è sottologica, cattura? Ma se gioca sotto, in un modo o nell'altro, comunque bianco ha ancora una possibilità di tagliarlo. Per cui qualcosa di questo genere, non ci si deve preoccupare di questo altro problema, perché se viene qui, insiste e cattura, il tratto nero, qua nero con il buro ancora per il suo artefatto, per cui tutte le cose che fa bianco di qui sono peggio. Questa non va bene. Se è bianco, torni indietro, poi questo punto, c'è, però comunque non è grossa come borsa. Se risponde, fa qualcosa, non vale più di tanto. Eh, quindi tanto vale se cattura, bianco ha fatto tre punti in più, però butta. La cosa migliore che può fare bianco, in realtà, su questo di nero, che scende da questo punto, non può difendere qua, perché non cattura lì. quindi, perché il nero continua a salire, il bianco, senza questa, ci possono essere problemi. magari non subito, magari non subito, Cioè, dipende però da cosa ci sarà qua. Questa, in generale, due, due, è la forma per riferimento. Questa in generale, è la forma per riferimento. Se invece, il bianco gioca qui per impedire che nero salga ed estenga il suo muro, nero può difendere qui, quindi, non così, ma, così, perché il bianco, non può spingere, perché il bianco, non può spingere, ed il bianco, che si può fare una fuoco bruttissima, anche adesso, il bianco, che, e quindi, quindi, questa è la bianco, non è più buona, in generale, è meglio qua. Però, comunque, questo dimostra che bisogna resistere alla tentazione di converti. Già quando ti giocano questa, devi pensare, ma io devo proprio commettere? Cosa succede se gioco qua? Ecco, se gioco qua, insomma, il danno è, è un po' più grosso. Questa la devo difendere, perché, se no, bianco in mega, c'è più niente, poi bianco in mega. Per cui, vabbè, a questa, magari a malincuore, si risponde, però poi bisogna, quando ti giocano questa, devi dire, ma devo commettere anche questa, se gioco qua, che forma ho, devo trovare un'altra mostra. e allora, poi si piena. è un po' più grosso. E allora,